Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Diletta Leotta, in un video pubblicato sui social, si è mostrata in forma smagliante durante gli allenamenti quotidiani, il video. Lei è una delle conduttrici, giornaliste sportive ed influencer più amate e seguite dal grande pubblico televisivo. Stiamo parlando della talentuosa e bellissima Diletta Leotta. Di tanto in tanto, il volto più noto della piattaforma sportiva da Zon, conquista le copertine patinate del gossip nostrano. Dopo la relazione con il pugile Daniele Scardina, Diletta Leotta ha avuto una storia d'amore con il noto attore turco Kenny Aman. Al momento, nonostante siano stati attribuiti diversi flirt, tutti smentiti, Diletta Leotta sembrerebbe essere single. Intanto, la giornalista di Dazon continua a regalare scatti e video in cui si mostra in tutta la sua bellezza i suoi fans. Il video di Diletta Leotta, sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 8,3 milioni di followers, Diletta Leotta ha pubblicato un video di uno dei suoi allenamenti quotidiani. La giornalista sportiva di Dazon si allena tutti i giorni e segue una dieta rigidissima, ecco quali sono i suoi segreti di bellezza. Leotta si è mostrata in forma mozzafiato e sul terrazzo della sua casa di Milano, ha mostrato ai suoi followers i suoi allenamenti specifici per le gambe. Tantissimi like al video, come sono tantissimi i complimenti per la Leotta. Diletta Leotta lascerà da Zon, nei mesi scorsi si è parlato con insistenza di un fortissimo interesse di Mediaset per Diletta Leotta. La giornalista sportiva, in effetti, ha condotto una puntata di Striscia la notizia lo storico TG satirico ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5 insieme all'attore Alessandro Siani. I vertici di Cologno Monzese sarebbero rimasti impressionati dalla Leotta, tanto da volerla portare nella propria squadra. Al momento, però, non c'è nulla di concreto. La scorsa settimana sono stati presentati i palinsesti Mediaset della nuova stagione 2022-2023 e della conduttrice di Dazon Non C'è Traccia. Non è detto che questo passaggio non possa avvenire nei mesi prossimi. Staremo a vedere, grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.